Ciao a tutti, noi siamo le sorelle italo-catalane Laia, May e Noah e oggi vi spiegheremo la tradizione dei Re Magi in Catalogna, perché dovete sapere che la nostra cara Befana non ha mai sorvolato i cieli catalani. Secondo il Vangelo di Matteo, i Re Magi sono dei saggi venuti dall'Oriente che, guidati da una stella, arrivarono fino a Betlemne per offrire i loro doni, ora, incenso e mirra, a Gesù Bambino. Il termine Magi deriva dal greco Magos, che anticamente indicava dei sacerdoti esperti in astrologia. Il tempo e la tradizione li hanno affermati come i tre Re Sapienti, provenienti dai tre continenti del mondo antico, che rappresentavano allo stesso tempo i tre momenti dell'esistenza, giovinezza, maturità e vecchiaia. I loro nomi sono già presenti in un mosaico bizantino, nella chiesa di San Apollinare Nuovo, a Ravenna, e sono Melchiorre, Gaspare e Valdassarre. L'anziano Melchiorre, di pelle e barba bianca, proviene dall'Europa e viene chiamato il Re Bianco. Gaspare, di mezz'età, di pelle chiara e barba bionda, proviene dall'Asia ed è conosciuto anche come Re Biondo. Il giovine Valdassarre, di pelle scura e capelli nerissimi, è il più popolare, soprannominato il Re Nero. Dai doni dei Re Magi a Giove, nasce la tradizione di portare giocattoli ai bambini. Un ruolo importante nella tradizione catalana è ricoperto dai Pages Reials, ovvero i Paggi Reali, al servizio dei tre Re, con la missione di annunciare il loro arrivo, di sorvegliare che i bambini e le bambine si comportino bene e di raccogliere le loro letterine per consegnarle ai Re. Ogni zona della Catalogna ha i propri Paggi, il Paggio Camarlenc agli Eida, il Paggio Farrucca a Igualada e a Mallorca e il Paggio Gregori a Marcellona. Quando arriva la vigilia dell'Epifania, i bambini scendono per le strade ad aspettare l'arrivo dei Re Magi. E siccome i Re sono magici, trovano sempre il modo adatto per giungere in ogni posto, per via mare, in nave, in elicottero, in macchina, col treno o perfino sugli sci. Pensate che l'ultima volta li ho visti arrivare agli Eida col treno ad alta velocità. Si vede che dovevano essere un bel po' in ritardo. Subito dopo si dà inizio alla cavalcada dei Reis, un'enorme sfilata che attraversa le principali lie della città. Ogni Re possiede la propria carrozza e il proprio corteo. Vestiti con splendidi abiti colorati, lanciano dai loro carri caramelle e cioccolatini ai bambini. che vivono questo momento con grande emozione. È vero che a volte vanno sul camaleo a cavallo? Sì, anche! È vero che a volte ci sono altri carri? Sì, è vero! C'è quello con la stella che apre la sfilata, quello con il pagio reale, il carro dei carbonai che portano il carbone anche se comportano male durante l'anno. I giganti e altri personaggi tipici di ogni città e puoi dare la letterina all'ultimo secondo, al pagio o al Re durante la sfilata e anche consegnare il ciuccio perché stai diventando grande. La sfilata termina davanti alla chiesa principale oppure davanti al municipio o anche in una piazza importante dove i Re Magi rivolgono un discorso ai bambini riflettendo sull'anno appena passato e finendo con un saggio consiglio. Questa notte andate a letto presto. Immediatamente dopo tutti corrono a casa per mettere sul balcone, in cortile o sulla finestra una scarpa o una ciabatta per ogni membro della famiglia come segno affinché i Re Magi si fermino. Bisogna anche dare da mangiare e da bere alle loro maestà e bisogna dare un po' d'acqua anche per i loro cammelli come segno di ringraziamento. I torroni, le snevole e il cava vanno benissimo. Vi ricordate la puntata precedente? A volte di ritorno dalla sfilata, se le finestre di casa sono aperte, guardate bene in giro perché potreste già trovare i regali. Durante la notte magica che va dal 5 al 6 gennaio, i Re distribuiscono i regali per tutte le case. È importante che la luce sia spenta e non essere svegli, altrimenti tirano dritto. Il giorno dopo, il 6 gennaio, è il dia odiada dei Reis. I bambini si alzano prima rispetto alle altre mattine con l'entusiasmo di vedere cosa hanno portato i Re Magi. Per ogni angolo della casa cercano i pacchi regali, però a volte può capitare di trovare del carbone. È un giorno di ritrovi familiari, si vanno a trovare i nonni, i zii, i cugini, oppure si ricevono le loro visite per ritirare i regali che i Re Magi hanno portato a casa loro. Le famiglie si riuniscono per pranzare e gustare assieme il tortei dei Reis, la torta dei Re. È fatta di pasta sfoglia e ha la forma di una ciambella farcita col marzapane, con sopra della frutta candita, soprattutto verde e rossa, pinoli e zucchero a velo. Viene decorata al centro con una coroncina dorata di cartoncino. Come varianti può essere il tortei dei Reis, può essere farcito alla crema, alla panna o al cioccolato. C'è un gioco associato che riguarda due sorprese, una fava secca e una statuina raffigurante uno dei tre Re. Queste sorprese vengono nascoste nel dolce e chi, mangiando in una fetta, trova la statuina, viene incoronato e nominato Re o Regina del giorno. Chi invece trova la fava deve pagare l'intera torta. E per ora è tutto. Anche noi vogliamo cominciare un lungo viaggio, con coraggio, seguendo una nostra stella, nella speranza che questo nuovo anno sia migliore. Anche se siamo distanti, dobbiamo sperare di celebrare e vivere al meglio le nostre feste e tradizioni che ci identificano e tessano la nostra storia. Buon anno! Ciao!